altra ricetta con la sovraccoscia di tacchino l'ho tagliuzzata come potete vedere tolta la pelle quindi l'ho pulita per bene cerco di togliere più grasso possibile e iniziamo a mettere per fare la nostra marinatura quindi pepe sale così si prende meglio taglizzandola tutta si prende meglio del sapore il timo l'aglio abbondiamo eh tanto poi lo possiamo sempre togliere intanto mettiamocelo così fa sapore sempre che vi piaccia l'aglio a me piacciono tutte le spezie quindi la cipolla abbonda 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 preso la cipollotta fresca quello che riesco a trovare al mercato di fresco io lo compro poi paprika eccoci qua che cos'è questo che cos'è no non è un'arancia non è un'arancia è un pompelmo vi piace l'idea del pompelmo quel sapore amarognolo visto che il tacchino comunque un sapore dolce ho pensato che questo contrasto non starebbe male e devo dire che no non ve lo dico non ve lo dico l'ultima parte l'ho schiacciata sopra ok quindi schiacciamo per bene tutto quanto con le nostre manine e lasciamo marinare l'ho lasciato da una parte per una mezz'oretta poi ho acceso il forno eh a duecento gradi ho messo dentro guardate come rilascia tutti i succhi la carne e di che colore poi diventa quasi il colore della del pompelmo l'ho lasciato dentro diciamo che ha cucinato per circa quasi un'ora quasi un'ora sempre con l'occhio vigile perché non si deve bruciare ma si deve cuocere ma la cosa interessante è che dentro rimane morbida quindi croccante fuori è morbida dentro e il sapore lo volete sapere io ho messo anche del dell'aceto balsamico non è glassa è aceto balsamico ma quello buono però e che sembra glassa ma non lo è e che vi devo dire che vi devo dire pompelmo carne aceto balsamico provatelo provatelo fatemi sapere se vi è piaciuto ok ciao alla prossima